Nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica della regione entreranno 108 alloggi venduti da privati in 10 comuni. L'assessore regionale alla casa, Vincenzo Ceccarelli, ha reso noti i risultati del bando riservato ai comuni toscani per far fronte all'emergenza abitativa. Le proposte di acquisto di alloggi finiti, ma ancora in venduti, sono state 24, 10 quelle finanziate per oltre 14 milioni, mentre altri 17 milioni provenienti dalla delibera del Cipe saranno assegnati a due progetti ERP a Prato e Firenze. Crediamo che questo esperimento abbia dato un risultato molto positivo perché in tempi molto rapidi, un anno tra l'approvazione del mando e quando gli alloggi devono essere disponibili per l'assegnazione da parte dei sindaci, abbiamo appunto questa disponibilità e abbiamo una disponibilità anche a dei prezzi vantaggiosi perché la media di questi 108 alloggi è di circa 130 mila euro ciascuna. Le 10 proposte d'acquisto finanziate dalla regione riguardano i comuni di Bibbiena, Fucecchio, Lucca, Gallicano, Aulla, Massa, Serravalle Pistoiese, Castelfranco di Sotto, Poggio a Caiano e Torrita di Siena. Nel complesso tra 2017 e 2019 sono stati impegnati 100 milioni di euro sul patrimonio ERP di proprietà dei comuni. La regione è intervenuta anche a sostegno dei contributi affitto con 25 milioni di euro in 5 anni dopo lo stop al contributo statale, mentre 20 milioni sono stati impegnati per l'amorosità incolpevole e 50 milioni per aiutare 6 mila giovani a uscire dal nucleo familiare.